Nuova società, vecchi problemi, gli stipendi. Gli 80 lavoratori dell'ecologica pugliese Newco, subentrata alla Scarl per il servizio di raccolta dei rifiuti a Modugno, denunciano che l'azienda l'ha ancora versato la mensilità di gennaio, sebbene nelle ultime ore si siano susseguiti incontri con la dirigenza di Capurso. Secondo quanto riportato dalle segreterie sindacali FPCGL, FIT, CISL e FIED, l'azienda dovrebbe versare gli stipendi la prossima settimana, anche se al momento non c'è una data precisa. Alla base del ritardo ci sarebbero problemi economici. I sindacati hanno già scritto al prefetto di Bari, Antonio Nunzianti, al commissario prefettizio di Modugno, Mario Ruffo, annunciando lo stato di agitazione. I sindacati in un documento hanno scritto inoltre che qualcosa non ha funzionato nella scelta fatta dall'amministrazione pubblica. Una scelta adottata con procedure d'urgenza, visto che il contratto con la Modugno Scarla, già in proroga, scadeva a dicembre e ci sarebbe stato il rischio di lasciare i rifiuti per strada. Il comune di Modugno, la società che è subentrata, pagherà per tre mesi prorogabili oltre un milione di euro. Non è la prima volta che l'azienda di Capurso lavora a Modugno. L'ecologica pugliese Newco SRL proviene dalla trasformazione dell'ecologica pugliese di Pontrelli e Gagliardi, che nel 2003, in associazione temporanea di impresa con Ecoambienti, aveva vinto l'appalto del comune di Modugno per la gestione dei rifiuti per nove anni, per poi portarla avanti con la sigla Modugno Scarla.